Grazie Grazie Silenzio Silenzio Anderemo che sappiamo che Rolto 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 un pianto Io non avevo Grazie 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 Prima di iniziare l'appello vorrei ringraziare il Movimento 5 Stelle e nel momento del bisogno ci siamo provati ci sono sempre Grazie 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 Procediamo 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 l'appello Renato è presente Adormezzo Presente Scania Presente Nicosia Assente Ricotta Assente Dumbo Corogero Assente Gesù Deccardo Speciale Esempio Maria Presente Rizza Deccardo Assente Giacomo Assente Giovanni Assente Presente 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 Amo Michele Presente Ciaccapino Alfredo Presente Montagnino Lea Assente Nicare Silvano Assente Don Marco Alessio Assente Don Marco Mazzetta Graziella Presente Diere Adelice Assente Aliello Oscar Presente Romero Michelaggio Presente Salzone Presente Tricolo Valenzo Presente Pierrone Peppe Presente Nicario Pasquale Giorgio Assente Turco Massimiliano Presente Tavata Andronio Presente Campisitale Presente Sprech Presente Bando Pizzone Screta Pronsignino Presente Presente Pizzone Mazzetta Pizzone Grazie a tutti. 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 Presidente del Consiglio, Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.